Ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Io sono Francesco e oggi ti parlo di due verbi estremamente importanti in italiano. Questi due verbi sono andare e venire. La differenza sembra semplice, ma in realtà l'uso di questi verbi può creare un po' di confusione. Prima di iniziare ti ricordo che puoi iscriverti al mio canale cliccando sul bottone iscriviti sotto il video e se clicchi sulla campanella riceverai una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, siamo pronti per iniziare con la differenza tra il verbo andare e il verbo venire. Prima di parlare della differenza nell'uso di questi due verbi, vediamo velocemente la loro coniugazione al presente indicativo, ok? Così sarà più facile comprendere gli esempi successivi. Il verbo andare si coniuga al presente indicativo in questo modo. Io vado, tu vai, lui o lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Il verbo venire. Io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Come vedi sono due verbi irregolari. Li hai memorizzati? Se hai bisogno di più tempo ti consiglio di fermare il video per qualche secondo e memorizzarli. Bene, ma cominciamo a parlare della differenza nell'uso tra andare e venire. Immaginiamo due persone, Sofia e Luigi. Oggi Sofia e Luigi ci aiuteranno a capire la differenza tra il verbo andare e il verbo venire. Vediamo che cosa dicono. Sofia dice, Luigi, andiamo al mare domani? E Luigi risponde, no, al mare no, perché non vieni a casa mia a guardare un film? Furbo, Luigi. Hai notato che Sofia ha utilizzato il verbo andare? E Luigi il verbo venire. Rivediamo il loro dialogo. Luigi, andiamo al mare domani? No, al mare no, perché non vieni a casa mia a guardare un film? Andare e venire sono due verbi che indicano un movimento, ma la differenza è nella direzione. Cominciamo con il verbo andare. Sofia dice, Luigi, andiamo al mare domani? Sofia ha utilizzato il verbo andare perché indica un movimento verso un luogo dove nessuna delle due persone si trova in questo momento. Sofia e Luigi sono qui, il mare è lontano da entrambi. Quindi il verbo andare si usa per parlare di un movimento verso un luogo lontano da tutte le persone che parlano. Nessuna delle persone è in quel luogo. Luigi, andiamo al mare? Il mare è là. Luigi e Sofia non sono al mare. Vediamo degli altri esempi. Andiamo al cinema questa sera? Noi che parliamo non siamo al cinema adesso. Il cinema è là. Noi siamo qui. Quindi il cinema è lontano da tutte le persone che parlano. Andiamo al cinema? Oppure Vado a scuola in bicicletta. La scuola è là. È lontana da tutte le persone che parlano. In questo caso solo io. Quindi uso il verbo andare. Io vado a scuola in bicicletta. Passiamo ora al verbo venire. Alla fine del video faremo un esercizio per praticare l'uso di questi due verbi. Ok? Quindi continua a guardare questo video. Verbo venire. Il verbo venire si usa quando una persona nella conversazione si muove verso un'altra persona. Ok? Quindi indica il movimento verso un luogo dove un'altra persona è presente adesso o sarà presente in futuro. Rivediamo il dialogo di Sofia e Luigi. Luigi dice Luigi ha usato il verbo venire. Lui è già a casa. E chiede a Sofia di venire verso di lui. Verso la sua casa. Quindi il movimento è da Sofia verso Luigi. In alternativa Luigi potrebbe dire Ok, vengo a prenderti alle nove. Anche in questo caso c'è un movimento di una persona verso l'altra. Luigi va verso Sofia. Quindi il verbo venire. Ok? Il verbo venire quindi indica la direzione di una persona verso un'altra. Quindi il movimento verso un luogo dove l'altra persona si trova o si troverà. Vediamo degli altri esempi per chiarire. Vieni al mare domani? Io domani sono al mare. Tu vieni al mare? Indica un movimento di una persona verso di me. Io sarò al mare. Quindi quella persona con cui io parlo viene verso di me. Vengo nel tuo ufficio adesso. Tu sei in ufficio. E io vengo verso il tuo ufficio. Quindi io mi muovo verso di te. Questa sera vengo a teatro con te. Questa sera tu sarai al teatro. E io vengo con te. Quindi vengo verso un luogo dove tu sarai questa sera. Si usa anche per muoversi insieme. Ma è sicuro che tu vai a teatro questa sera. Facciamo degli esercizi adesso per praticare e memorizzare l'uso del verbo andare e del verbo venire. Tra poco ti mostrerò delle frasi e quello che ti chiedo di fare è scegliere l'alternativa giusta tra andare e venire. Vediamo. Tu vieni vai con me al cinema domani? Arrivederci a tutti. Sono molto stanco. Vengo, vado a casa. Ragazzi, io sono al mare oggi. Andate, venite qui oggi. Ti lascio qualche secondo per scegliere l'alternativa corretta. Bene, le soluzioni sono Domani i miei amici vengono a cena a casa mia. Domani io sarò a casa. È la mia casa. E gli amici si muovono verso di me. Tu vieni con me al cinema domani? Io ho già deciso che domani sarò al cinema. Quindi tu ti muovi verso un posto dove io sarò. O comunque vieni con me. Andiamo insieme. Arrivederci a tutti. Sono molto stanco. Vado a casa. In questo caso ho usato il verbo andare. Io sono con i miei amici. La mia casa è lontana da tutte le persone che parlano. La mia casa è lontana da me e dai miei amici. Quindi vado a casa. Verbo andare. Ragazzi, io sono al mare oggi. Venite qui. Io sono al mare. Quindi uso il verbo venire. Venite qui oggi indica un movimento dei miei amici, loro, verso di me. Ok? Capisco che può essere un po' complicato. Facciamo un riassunto veloce. Si usa il verbo andare quando si indica un movimento verso un luogo lontano da tutte le persone che parlano. Andiamo al mare domani. Adesso siamo qui. Il mare è là, lontano. Andiamo al mare domani. Il verbo venire si usa per indicare la direzione di una persona verso un'altra persona che fa parte della conversazione. Ok? Vieni a casa mia è una direzione di una persona verso di me, verso il luogo in cui vi trovo. Casa mia. È chiaro? Se hai delle domande ti prego di scriverle nei commenti qui sotto. Io sarò felice di aiutarti e di risponderti. Noi ci vediamo al prossimo video e ti ringrazio per essere stato o stata qui con me. Ti mando un abbraccio grossissimo e a presto! Arriunci. Forse. Grazie a tutti